Riprendo la presentazione di Davide dove ripartendo dall'ultimo punto abbiamo allora stiamo parlando del manicotto attualmente in acciaio abbiamo detto un acciaio forgiato un acciaio forgiato e cementato un acciaio al nickel cromo molibdeno che viene prodotto all'interno dello stabilimento di Mirafiori e che fa parte del pacchetto di sincronizzazione insieme al mozzo all'anello sincronizzato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è la possibilità di passare da un make a un buy e per noi è molto importante perché gli altri componenti che fanno parte del gruppo di sincronizzazione che ho citato prima vengono acquistati all'esterno. In questo caso noi abbiamo che il manicotto è l'unico componente del gruppo sincronizzato ancora prodotto all'interno. È un acciaio ricco di nickel con tutte le problematiche che sono state riportate nelle presentazioni precedenti. È cancerogeno, non è presente nell'UE o perlomeno in Italia sicuramente no, pochissimo nell'Unione Europea. È molto volatile. Aggiungo dal punto di vista del trattamento termochimico di cementazione è abbastanza critico perché è vero che ci dà tutta una serie di vantaggi dal punto di vista della resistenza fatica e della tenacità. Ma durante la fase di cementazione gassosa noi abbiamo problemi di eccessivi arricchimenti di austenite residuo superficiali che possono portare alle problematiche di usura. In sintesi, per trattare un acciaio al nickel cromomolibdeno, in questo caso con circa l'1,7 di nickel, bisogna creare delle ricette ad hoc durante la fase di cementazione. Prossimi step, visto il risultato positivo della soluzione sinterizzata con questa chimica con lo 0,25 di carbonio, 0,85 di molibdeno, l'idea è quella di sviluppare ulteriormente questa soluzione ma in maniera comparativa, non più a livello assoluto. Davide ha fatto vedere una prova di fatica che è il protocollo di validazione di FCA, ora di Stellantis, ma dipende anche dal progetto. In questo caso ho avuto un esito positivo. L'idea è quella di fare dei test di fatica comparativi su provette rappresentative che vedete schematizzate a destra, che riguarda l'attuale materiale, ovviamente l'acciaio compatto cementato, la soluzione in astaloio 85, quindi sinterizzata, così come è stata proposta da Eugenas, e la stessa soluzione con un processo di pallinatura. Processo di pallinatura controllato che determina tensioni residue in compressione importanti che vedremo brevemente dopo. Un breve stato dell'arte. Federico della Ricca, prima di Eugenas, ha fatto un escurso sulle applicazioni della metallurgia delle polveri nel campo automotive. Allora, questa è un po' una fotografia di quello che noi acquistiamo direttamente dai nostri Tier 1. Siamo a circa 6 kg per vettura. Sono componenti del cambio, componenti del motore, componenti delle sospensioni. Abbiamo sicuramente qualcosa in più di sinterizzato sull'autoveicolo, ma che noi non monitoriamo perché? Perché quei componenti sono all'interno di prodotti finiti che noi non gestiamo come ingegneria dei materiali. Mentre la lista che vedete qua, suddivisa per classi di densità e ovviamente per tipologia di sollecitazione, sono quelli che noi compriamo direttamente. Siamo a circa 6 kg per vettura, 6 kg per sistema powertrain, più le sospensioni. Quindi abbiamo delle boccole a densità bassa, abbiamo componenti a densità media, pullegge della distribuzione, pullegge, pompe acqua, guida valvole, eccetera. E poi abbiamo applicazioni più gravose che ci portano a densità più alte, quindi da 7 a 7,2, anche perché è un po' lo stato dell'arte, il 7,2 grammi al centimetro cubo, che riguarda rotori pompaolio, quindi componenti cementati, che riguarda i mozzi del cambio che accoppiano con i manicotti e qualche altra applicazione. Abbiamo detto, faremo prove di fatica utilizzando una provetta, quella che vedete in basso a destra, è una provetta che abbiamo condiviso con la nostra ingegneria, è una provetta definita Cracktronic che è rappresentativa dell'applicazione. Quindi le prove di fatica su provette sono molto significative perché non solo c'è una valutazione comparativa e quindi crea un ranking tra varie soluzioni, ma, ripeto, la provetta è studiata per l'applicazione specifica. Nel caso di componenti cambio utilizziamo questa Cracktronic con un run out, quindi con 5 milioni di cicli sul vibrofalo. Se invece avessimo dovuto testare un materiale diverso per applicazioni motoristiche, quale può essere un albero motore, un albero distribuzione, una biella, noi avremmo utilizzato, per esempio, una provetta a flessione notante. Quindi saranno previste prove di fatica su provette per valutare a livello comparativo la differenza eventuale di resistenza a fatica per capire anche, mi riallaccio alla prima presentazione di Fabio Pegorin, di estendere eventualmente questo, come Lester Alert, questo studio anche per altre applicazioni sempre partendo dal sintetizzato. La seconda soluzione, anzi la terza, dopo quello del materiale base che abbiamo attualmente, è un processo di pallinatura controllata. La pallinatura è un processo meccanico superficiale a freddo. Ha come obiettivo quello di incrementare la resistenza a fatica attraverso il tensionamento in compressione della superficie fino a una certa profondità. Queste tensioni residuo indotte secondo la legge di Bragg, che cosa fanno? Come vengono prodotte? Vengono prodotte attraverso un incrudimento, una deformazione del reticolo cristallino indotto da un bombardamento di pallini. Ora, questo bombardamento di pallini è un po' come se io prendessi a martellate un componente, a martellate in senso buono, passatevi il termine, senza modificarne la geometria, e se io provo a fatica un componente martellato, quindi con un processo meccanico superficiale a freddo, senza modificare la geometria in modo che io possa montarlo, resiste di più a fatica rispetto allo stesso componente non martellato. Qui il martellamento avviene attraverso un bombardamento di pallini che è controllato perché controllo il coverage, quindi la copertura sulla superficie, il tipo di pallino, sferico o un cut wire, il diametro del pallino, la durezza del pallino, l'intensità di pallinatura e ultima, non ultima, ma non meno importante, le tensioni residue. Qui abbiamo tre curve, che sono tre curve che ci possiamo aspettare da un componente sinterizzato, in funzione di quello che noi troveremo, andremo poi a, oltre a fare la prova di fatica ovviamente per quantificarne la resistenza, andremo a misurare mediante la diffattometria a raggi X questo valore di tensioni residue, sia in superficie che in profondità. Il tutto per dirvi che il follow up prevede un approfondimento della soluzione sinterizzata con questo tipo di chimica, in confronto con l'attuale materiale, dove sappiamo che per il manicotto funziona, ma a noi serve capire se può funzionare anche per altre applicazioni, quindi capire l'eventuale riduzione della vita fatica del sinterizzato e cercare di estrapolarla per altre applicazioni. E poi la soluzione pallinata, perché? Perché la pallinatura ovviamente mi alza di quel 20-25% il limite di fatica e me lo potrebbe riportare esattamente, se non oltre, a quello che oggi è il componente forgiato e cementato. Altro aspetto importante, e chiudo, la pallinatura è fondamentale, oltre che una certa quota di curiosità, sul sinterizzato perché? Perché sul pieno, su un acciaio privo di porosità reagisce in un certo modo. Su un acciaio sinterizzato, che ha un modulo elastico più basso, quindi la densità più bassa e delle porosità che sfociano anche in superficie, capire effettivamente come calibrare i parametri e come reagisce la superficie mista con parte di porosità all'inalzamento di tensioni di residuo in compressione. Sono andato un po' veloce, volevo solo far passare questi concetti, ovviamente questo potrebbe essere un tema per una prossima edizione di questo webinar, dove andremo ad illustrare, tra le altre cose, i risultati di prove che andremo a fare, direi a cominciare da gennaio barra febbraio. Tempo di preparare i campioni, a febbraio partiremo.